Una festa di tutti, una festa dei toscani. Sono particolarmente soddisfatto, oltre che di aver condiviso il tema della giornata, perché è un orgoglio dei toscani e di chi è nelle istituzioni toscane essere parte di uno Stato, di una regione che all'epoca per prima abolì la pena di morti. Questo occorrerebbe continuare a fare, a impegnarsi affinché vi possa essere l'abolizione della pena di morte in quegli Stati che purtroppo ancora la tengono come pena. Posso dire però che ho dato un importante contributo affinché potessero essere veramente protagonisti di questa festa della Toscana gli enti locali. Verrà data una bandiera ai sindaci, ci sarà il corteo dei gonfaloni, la festa di tutti, gli enti locali, delle associazioni, della scuola, il Consiglio regionale è particolarmente attento al mondo scolastico e di tutti i toscani. Quindi partire dai territori per legare i territori e tutti i toscani alla regione.